alto alto bravo così 34 ma tu sei il primo il giro corto osti ma gli altri li hai seminati proprio accendo quanti chilometri era il tuo percorso a 10 gli altri 20 circa 21 vabbè siete stati stato veloce ne adesso arrivano bravo a cavolo era lei che correva dietro al ragazzo brava complimenti brava quanti anni hai sei sei una signorina ormai complimenti brava ma quando hai iniziato che a che età piccoli addirittura ma lì sarà stato il papà credo io allenare quando è in famiglia così bene si ricorda che mi faccia sotto le foto certo certo ma l'era eh sì certo quest'anno niente quest'anno ha seguito lei brava e quindi è un atleta d'arte in famiglia ho sentito il ragazzo dice osti come andava la ragazzina eh sì ma abbiamo preso quelli che ci hanno fermato addirittura ma che c'è sotto il motorino lì brava brava 67 tu come ti chiami Giorgia brava Giorgia brava brava e dicono partecipano a campionessa adesso ho visto ah è vero pedalata brava Hai fatto il video? Bravo! Si stanco? Ma lo sai che è arrivato prima una signorina, prima di te? Ah beh, lei è vecchia, ne ha sette! Bravo, bravo! Posso andare da papà? Scusa? Posso andare da papà? Vai, vai, vai! Figurati! hoo, bravo! bravo! Brava! bravo Penso perché vai pipipassare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quante giga hai di limitato? Grazie a tutti. 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 Arrivano? C'è un gruppo che vedono in fondo. Ah ecco arriva il gruppo. Ah ecco arriva il gruppo. Ah ecco arriva il gruppo. Sono proprio tutti insieme. Sono proprio tutti insieme. Sì, ultimi. Sì, ultimi. Ciao. grazie 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 occhio grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io sono rimasto un po' con l'Egidio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.